Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Oggi risponderemo alla domanda Chi è sotto l'influsso in Man Flayer? Ovvero a che gioco stiamo giocando con Stranger Things The Attack of Man Flayer Un gioco dedicato a Stranger Things Uno dei miei telefilmi preferiti degli ultimi anni E l'avrete capito senz'altro da quando vi ho postato il video In cui facevamo l'unboxing di Dungeons & Dragons per l'appunto Stranger Things Devo premettere subito due cose Io in realtà non mi fido tantissimo dei giochi nati da serie televisive E' difficile che riescano a esprimere il senso della serie A volte sono quasi tutte operazioni commerciali E devo anche premettere subito che anche questo gioco va in quel suo Ma banda le ciance Sediamoci attorno al tavolo e vediamo come si gioca Stranger Things The Attack of Man Flayer Cominciamo scegliendo i nostri personaggi tra i personaggi di Stranger Things Per quanto mi riguarda io sarò Dustin Selezionati i nostri personaggi possiamo passare a preparare il mazzo delle carte avventura A seconda di quanti giocatori sono seduti attorno al tavolo dovremmo eliminare alcune carte A dircelo saranno le carte stesse grazie a questa scritta in basso 9 più E 6 più In partite in 4 o 5 giocatori elimineremo le carte 6 più e quelle 9 più In partite da 6 a 8 giocatori elimineremo solo le carte con su scritto 9 più In partite in 10 giocatori giocheremo con tutto il mazzo di carte In questo caso noi siamo in 6 e quindi elimino le carte con su scritto 9 più Alla fine di ogni partita io tengo sempre separate le carte 6 più e 9 più Le metto in fondo al mazzo Così come tengo separate anche 7 carte waffle e 3 carte mindflayer Perché in questa fase della partita ci saranno utili per stabilire in che ruolo giocheremo tutta la nostra partita Infatti dovremmo costruire un mazzo con alcune carte waffle e alcune carte mindflayer Ma andiamo a vedere In 4 giocatori abbiamo bisogno di Una carta mindflayer e 3 carte waffle In 5 giocatori avremo bisogno di Un mindflayer e 4 waffle 6 giocatori avremo bisogno di Due mindflayer e 4 waffle In 7 giocatori avremo bisogno di 5 waffle e 2 mindflayer 8 giocatori avremo bisogno sempre di Due mindflayer e 6 waffle In 9 giocatori avremo bisogno di 3 mindflayer e 6 waffle In 10 giocatori avremo bisogno di 3 mindflayer e 7 waffle Ma per quanto ci riguarda noi abbiamo bisogno solo di Due mindflayer e 4 waffle Queste altre le mettiamo nel nostro mazzo Mescoliamo attentamente queste carte e ne diamo una a ogni giocatore seduto attorno al tavolo Osservate attentamente in questa fase a quale fazione appartenete I waffle indicano i giocatori sani e il mindflayer ovviamente i giocatori contagiati Mescoliamo attentamente le carte avventura e provvediamo a dare una mano iniziale di 3 carte ad ogni giocatore seduto attorno al tavolo Controlliamo un attimo le nostre carte Se avessimo trovato tra le carte che ci hanno dato in questa fase 3 carte e duro colpo Scarteremo istantaneamente le carte Le faremo rimescolare e ne pescheremo altre 3 Ma se avessimo trovato 3 mindflayer e fossimo stati dalla parte dei sani Avremmo cambiato istantaneamente la nostra fazione Diventando anche noi infetti A questo punto dobbiamo prendere le nostre carte avventura e dividerle in 3 mazzetti Il più uguale possibile tra di loro Prendere le carte incontro Mescolarle attentissimamente E selezionarne 3 Prendiamo il primo mazzo che abbiamo formato E mettiamo sul suo fondo la prima carta estratta tra le carte incontro Prendiamo il secondo mazzo che abbiamo formato E mettiamo sul suo fondo la seconda carta incontro pescata E facciamo lo stesso Col terzo mazzetto e la terza carta incontro A questo punto rimpiliamo Tutti il mazzo Nelle carte incontro Posizioniamo al centro del tavolo L'ultima cosa che ci resta da fare Sarà far riconoscere tra di loro Gli infetti del mindflayer In partite da 6 giocatori a 10 In questa fase tutti i giocatori chiudono gli occhi I giocatori che sono stati infettati dal mindflayer li aprono Si riconoscono Si riconoscono Dopo 5 secondi tutti chiudono gli occhi Per poi riaprirli Sembra proprio che Siamo pronti per giocare Stranger think the attack on mindflayer Mindflayer è un gioco da 4 a 10 giocatori che per 20 minuti ci trasformerà nei protagonisti di Stranger think In questo gioco si affrontano due fazioni I personaggi infettati dal mindflayer e quelli ancora sani I personaggi infettati faranno di tutto per infettare anche tutti quanti gli altri Per difendersi i personaggi sani si rifugieranno nei loro ricordi E ogni tanto daranno qualche duro colpo a quelli infetti E ogni tanto dovremo anche risolvere degli incontri Il tutto per riuscire a infettare gli altri personaggi o rimanere sani Ma vediamo nello specifico come funziona la partita Stranger think the attack on mindflayer A partire dal giocatore più giovane e a seguire in senso orario Tutti i giocatori durante il loro turno dovranno semplicemente scoprire la prima carta dalla cima Del mazzo delle carte avventura Farla vedere a tutti e decidere un altro personaggio Che dovrà avere quella carta In questa fase tutti i giocatori possono partecipare a un dibattito Stabilendo chi dovrebbe avere la carta in questione Ma a decidere dovrà essere soltanto il giocatore che l'ha scoperta Una regola fondamentale Il giocatore non può tenere per sé quella carta Quindi vediamo io voglio dare questa carta a Will La carta una volta data al giocatore in questione Entrerà nella sua mano Ma per stabilire perché dare o meno una carta a uno degli altri giocatori sui Q2 attorno al tavolo Dobbiamo innanzitutto analizzare queste carte Nel gioco abbiamo cinque tipologie di carte I waffle non servono a nulla Ma ottenendo tre carte nella nostra mano Mind Flayer Istantaneamente passeremo dalla parte degli infetti Se ovviamente non lo siamo già Ottenendo una carta Ricordi invece annulleremo l'effetto della carta Mind Flayer Se abbiamo ottenuto le tre carte Mind Flayer e siamo diventati infetti Ricevere una carta Ricordi non servirà assolutamente a niente Nel momento in cui diventiamo adepti del Mind Flayer Cominceremo a giocare nella loro fazione Collezionando tre carte Duro Colpo Usciremo dal gioco Una carta Supporto annulla una carta Duro Colpo Che abbiamo ottenuto in precedenza Quando usciamo dal gioco Prendiamo il nostro token con il personaggio Lo mettiamo dal lato grigio E posizioniamo sotto di esso tutte le nostre carte Da questo momento non possiamo partecipare ai dibattiti Per dare o meno una carta a un giocatore Non parteciperemo agli incontri Però alla fine della partita vinceremo con la fazione A cui apparteniamo Quando durante la partita pescheremo una carta incontri La prima cosa da fare sarà risolvere gli effetti Quindi cominciamo a leggere il testo Tutti i giocatori collocano una carta a faccia in giù al centro del tavolo Mescolate le carte raccolte e distribuisceranno ogni giocatore Quindi facciamo questa cosa Una volta risolti gli effetti della carta La carta verrà scartata La butteremo direttamente nella scatola E si passerà con la seconda parte degli incontri In questa fase degli incontri Tutti i giocatori prenderanno le proprie carte in mano Ne sceglieranno due E ne daranno una al giocatore alla loro sinistra E una al giocatore alla propria destra Ricordate i giocatori che stanno dalla parte del Mind Flayer Possono dare le carte Mind Flayer Mentre quelli ancora sani non possono cederle Le carte così ottenute andranno a finire sotto i nostri segnalini A questo punto tutti i giocatori avranno due carte Quando sarà così prenderanno le carte che hanno avuto Le mescoleranno molto attentamente E le prenderanno nella propria mano E si riprenderà a giocare La partita andrà avanti così Fin quando non si riveleranno due situazioni La prima Soltanto due giocatori Sono rimasti effettivamente in gioco La seconda Anche il terzo incontro è stato risolto A questo punto i giocatori dovranno fare due cose Tutti i giocatori posseduti cominceranno a ringhiare Una volta che tutti avranno cominciato a ringhiare Passeremo ai giocatori sani che cominceranno ad applaudire Se c'è un giocatore ancora sano in gioco Tutti i giocatori sani hanno vinto la partita Altrimenti a vincere è stato proprio il Mind Flayer E questo era Stranger Things di Attacco Mind Flayer Come avete potuto vedere Il gioco è veramente molto semplice E alla fin fine Non è granché Non ci sono meccaniche particolarmente innovative E nemmeno degli spunti in gioco particolarmente interessanti E allora perché l'ho comprato? L'ho comprato perché sono molto appassionato di Stranger Things E volevo provare a vedere se effettivamente un gioco Da 22 euro Potesse riportarmi nelle ambientazioni della serie Ci è riuscito? No La cosa più carina è sicuramente il packaging La grafica Ma anche per esempio le carte non sono granché Sono quattro soggetti in croce Che non è che siano esempi di grande design Forse il packaging è la cosa più carina Ma non è granché Posso dire che il prodotto mi ha deluso? Assolutamente sì Posso dire che è stato un acquisto avventato? Assolutamente sì Posso dire che è perfetto per la collezione? Assolutamente sì C'è però da dire che in realtà è piaciuto a mio nipote Che ha voluto che glielo prestassi Per giocarci con i suoi amici E lui si è riuscito a divertire Forse è più adatto a un gruppo di persone che entra nel mondo dei giochi da tavolo Piuttosto che a noi esperti Però vi dico anche che vorrò provarlo in qualche scampagnata Magari in un ambiente più leggero, più tranquillo Tra una salsiccia arrostita e una melanzana grigliata Questo gioco può diventare divertente Però a questo punto voglio sapere da voi Cosa ne pensate di Stranger Things The Attack of Mind Flayer Sempre con questa voce Se anche a voi ha profondamente deluso Oppure se magari vi è piaciuto Ecco Scrivetemi tutto quello che pensate di questo gioco Qui in un commento su YouTube Ma anche su Facebook Instagram, Twitter E TikTok A questo punto non resta altro E salutarci per trovarci sempre qui Sempre qui sotto sopra A un altro tipo Ciao a tutti